Quello di oggi sarà un video estremamente importante, un video che affronterà un grande tema, quello dell'inflazione, però visto sotto un punto di vista un po' diverso, perché l'inflazione è uno strumento per alcuni e una maledizione per altri. Tutto sta nel come viene gestito. Prima di partire però vediamo qual è il significato, la definizione che dà il mainstream proprio dell'inflazione. Quindi andiamo su Wikipedia e leggiamo. Con inflazione in economia si indica l'aumento prolungato del livello medio generale dei prezzi di beni e servizi in un determinato periodo di tempo, che genera una diminuzione del potere d'acquisto della moneta. In che senso? E qui già qualcosa ci suona strano. Ripeto, l'aumento prolungato del livello medio dei prezzi che determina una riduzione del potere d'acquisto della moneta. In realtà è l'opposto. E questo è importantissimo comprenderlo, perché se noi riusciamo a comprendere questo aspetto qui, comprendiamo anche come lorsignori giocano con l'inflazione. Perché quando li senti che dicono dobbiamo ottenere l'inflazione sotto controllo qui e lì, sì, è importante evitare che dilaghi semplicemente perché poi scoppia una guerra civile, però tenere un giusto livello di inflazione per loro è vitale ed è fondamentale per mantenere attivo il loro sistema, il sistema del denaro fiat, che è sostanzialmente un ponzi. Ora, andiamo a capire bene questo concetto qui, perché è importante. Quello che dicono loro è aumentano i prezzi di beni e servizi, di conseguenza diminuisce il potere d'acquisto della moneta. Questo è quello che ci dicono. E quindi tante volte viene guardata l'inflazione proprio con l'indice del potere d'acquisto delle persone o meglio con il rincaro dei prezzi. Si guarda quanto stanno aumentando i prezzi per capire l'inflazione. Ma questo è sbagliato. Infatti tante volte i dati che ci vengono dati sono sbagliati. Ciò che bisognerebbe guardare per l'inflazione, che ricordo significa gonfiare, inflazionare, non spingere l'aria dentro, quindi gonfiare la bolla, perché questo è, non bisogna guardare l'aumento dei prezzi, perché l'aumento dei prezzi è la naturale conseguenza in realtà. Quindi vedi come ci mostrano il lato opposto, no? Anche solo giocando sulle parole ci mostrano l'altro risvolto della medaglia. Ma in realtà i prezzi aumentano non perché aumentano così a caso e di conseguenza si svaluta la moneta. No, è perché si svaluta la moneta, ma al contrario. Mi spiego meglio. Ipotizza di avere mille euro in totale. Ci sono mille euro che vengono distribuiti sul mercato a tre o mini, a tre persone. Questi qua si scambieranno tra loro prodotti e servizi con questi mille euro, pagheranno questi mille euro. Questi mille euro sono da dividere in tre persone. Anzi, per comodità, facciamo cinque persone, così sono duecento a testa. Quindi c'è un po' per tutti. Ora, questi qua scambieranno tra loro dei beni. Un pezzo di pane, acqua, qualsiasi cosa, beni o servizi. Hanno tutti duecento euro, scambiano i beni per quello che è. A un certo punto arriva qualcuno che però aumenta la cifra qua dentro. Quindi inizia ad aumentare diecimila. Aumenta, aumenta, aumenta. Cosa succederà? Come conseguenza che se io prima ti davo un servizio ad un tot del costo, ora che ci sono più soldi, aumenterò i prezzi. E questo è uno dei punti di vista. Quindi più liquidità entra, più, tra virgolette, soldi ci sono, più si possono aumentare i prezzi. Ma in realtà è una grande illusione. Di conseguenza vado a inflazionare i prezzi. Perché? Perché da un lato aumento il denaro circolante, di conseguenza si tende a spendere di più. Dall'altro diminuisco il valore di quello circolante stesso. Per comprendere meglio questo concetto, ritengo sia necessario spiegarlo in termini basilari. Prendiamo le figurine dei calciatori. Dico dei calciatori perché possono essere qualsiasi cosa, pokemon, qualsiasi cosa. Però diciamo che con le figurine dei calciatori riusciamo a colpire più o meno tutte le persone. Tutti sanno cosa sono le figurine dei calciatori. Ora, se io ho la figurina di un tal, non lo so, di un calciatore famosissimo, una figurina rara, la sua rarità da che cosa viene data? Viene data dal fatto che ce ne sono poche. Ed è questa la componente importante proprio che dovrebbe avere il denaro. Cioè il fatto che ci sono poche figurine di quel tipo lì, di conseguenza è raro. Di conseguenza il suo valore è più alto. Quindi io sono disposto a scambiarti più figurine comuni per acquisire questa qua rara. Ma se io domani te ne stampo due, tre, quattro, cinque, sette, ne stampo tante, al punto che praticamente in qualsiasi pacchetto tu compri, le trovi, allora non è più raro, non ha più valore. Si va a svalutare. Ed è proprio questo che succede con l'inflazione. Quindi sarebbe molto più semplice spiegare in questo modo il denaro e l'inflazione piuttosto che con i paroloni che usano l'oro. L'inflazione funziona nello stesso modo. Se io ho mille euro sul mercato, questi mille euro hanno un determinato valore. Io ho consumato energia per produrre questi mille euro. Ma se io vado a stampare, 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 e aumento, 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 aumento drasticamente, allora il denaro attualmente in circolazione non vale più. Si inflaziona. Quindi cosa succede? Che cala il suo valore. Perché io ne stampo di più, quindi è meno raro, di conseguenza vale meno. È più semplice, è più accessibile, di conseguenza vale meno. E cosa succede dall'altra parte? Che i prezzi in rapporto tendono ad aumentare. Perché ce n'è di più in giro, viene utilizzato di più, di conseguenza i prezzi tendono a salire. Molto semplice. C'è una cosa relativamente semplice da comprendere. Quindi dove sta l'inghippo? Perché a loro interessa, fa mantenere un certo livello di inflazione. Perché mantenere un certo livello di inflazione li permette di far che cosa? Di guadagnare. Loro sanno benissimo che il denaro, qualsiasi forma di denaro fiat, quindi parliamo di valute fiat, ma ormai ci sono solo valute fiat, loro sanno benissimo che non hanno valore. Ciò che ha valore sono gli asset che puoi comprare con quel denaro. Quindi ricordiamoci che il denaro che abbiamo in tasca è un po' come fosse una call option sul mondo. Cioè ci permettono di comprare asset che hanno veramente un valore. Perché se io compro un terreno, quel terreno ha un valore, e non è il valore monetario, cioè il valore nominale che noi diamo. Loro giocano tanto su questo valore nominale che noi diamo alle cose, perché loro ci hanno insegnato che è un euro oggi, è un euro domani e così via. Ma in realtà ciò che realmente importa e ciò per cui dovremmo lavorare non è il pezzo di carta, perché sappiamo che loro stampando vanno ad inflazionarlo. Ma che cos'è che dobbiamo accumulare? Sono risorse rare, difficili da ottenere. I beni, gli asset sono quelli che sono importanti. Patrimoni immobili, oro, metalli in generale, petrolio, qualsiasi cosa. Questo è quello che le banche e loro signori accumulano costantemente, dandoci che cosa in cambio un pezzo di carta. E pensa quanto è assurdo il concetto dietro questo pezzo di carta, che per carità ci sta, perché è necessario poter quantificare il valore di un bene per poter scambiare da un tipo di bene a un altro bene. Cioè io devo avere un intermezzo, se voglio scambiare ovunque nel mondo, chiamato denaro. Il problema però è proprio il gioco del denaro basato sull'inflazione. E ora ti vado a mostrare un dettaglio estremamente importante che pochi tengono in considerazione, ma che è necessario per capire come funziona il gioco. Perché se tu comprendi le regole del gioco, riesci poi a posizionarti. Nella seconda parte di questo video andiamo a capire come posizionarci proprio affinché le regole del gioco giochino a nostro favore, piuttosto che a nostro sfavore. Partiamo con un presupposto. Il valore del denaro, abbiamo detto, cala nel tempo. Tant'è che ciò che tu compravi dieci anni fa, oggi ti servono più soldi in termini quantitativi per acquistarlo. E qui c'è già un controsenso, perché scusa, quanto tempo ci voleva dieci anni fa per creare magari uno smartphone? E con le tecnologie, la robotica, tutto quello che abbiamo oggi, quanto è più facile produrlo? Teoricamente, se tanto mi dà tanto, creo un primo prototipo, lo vendo, mi costerà ovviamente di più crearlo. Ma quando ho un'industria robotizzata che produce a catena di montaggio, ovviamente abbatto i costi. E allora perché quello stesso prodotto negli anni mi costa di più? Perché il problema non è il prodotto in sé. E' vero che costa meno in termini di energia produrre quel prodotto, ma mi costa di più in termini di moneta, di denaro. Perché? Perché la moneta si è inflazionata. E basta prendere un qualsiasi grafico, e andiamolo a prendere così, abbiamo un'idea di che cosa significa la svalutazione del denaro, perché finché non ci si sbatte la testa contro non si comprende. Andiamo a prenderci una calcolatrice qualsiasi del potere d'acquisto, puoi farlo anche tu, c'è quella sul sito dell'Istat, c'è anche questa, se non sbaglio, del sole 24 ore, che dovrebbe funzionare relativamente bene. Quanto varrebbero oggi? Mettiamo 1000 euro, facciamo espresso in euro. Dall'anno non andiamo troppo indietro, andiamo solo dagli anni 2000. Ecco qua, 1000 euro negli anni 2000, oggi valgono 1341 euro. Quindi c'è un 30% di svalutazione abbondante. In realtà, se guardi i costi reali delle cose, è molto più alto e non ti dico dell'andare indietro, perché se noi andiamo solo al 1950, per esempio, quindi siamo relativamente, anzi nel 60, perché penso che molti di quelli che mi seguono nel 60 erano probabilmente già nati, senza andare troppo indietro, questo è il risultato. Quindi dal 1960 ad oggi, 1000 euro del 1960 equivalgono a 26.300 euro di oggi. Capiamo quanto si svaluta il denaro, quanto cala. Questo è fondamentale comprenderlo. Questo è veramente fondamentale comprenderlo. Il denaro perde potere d'acquisto costantemente, perché viene inflazionato, viene inflazionato. E basta andare a vedere il debit clock degli Stati Uniti, ma che poi è uguale per tutto il resto del mondo, e guarda quanto cresce il debito al secondo. È tremendo. Ormai c'è più debito in giro che denaro. E questo è il grosso problema. Guarda qua. Questo è il debito nazionale USA. Ora si aggiorna e vedrai quanto cresce. Guarda come cresce veloce. Cioè la quantità di denaro stampata è senza precedenti. Stampano, 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 perché è così che guadagnano. Perché ora io ti vado a mostrare una cosa, una cosa basilare. Ipotizziamo che io vada a inflazionare la moneta. Cioè quello che io compravo con 1000 euro dieci anni fa, oggi me ne servono 1300, abbiamo detto. Quindi 300 euro in più. Ok? Il valore della moneta è sceso, perché è aumentata la quantità disponibile. Il debito cresce. D'altra parte prendiamo una persona comune che ha magari uno stipendio. Quanti di questi stipendi sono effettivamente aumentati rispetto al passato? Cioè rimangono sempre graduali in realtà. Rimangono stabili. Quindi se tu dieci anni fa prendevi 1000 euro al mese, oggi continui probabilmente a prendere 1000 euro al mese. Il problema è che questi 1000 euro al mese che tu stai prendendo oggi non ti permettono di comprare quello che dieci anni fa compravi. E questo è un problema gravissimo, perché mentre la quantità rimane invariata, quindi 1000 euro rimangono 1000 euro, sia la quantità diciamo di denaro, sia la quantità di stipendio, metto l'S per stipendio, il problema è che nel passare del tempo il valore di questa roba qui, di questi euro, tende a scendere. Quindi rimangono 1000 come controvalore, ma vanno a scendere. Di conseguenza tu fatichi sempre di più ad arrivare a fine mese. E devi trovare altre soluzioni per poter arrivare a fine mese. Perché i prezzi delle cose aumentano e rimani imbottigliato. E che cosa fai se rimani imbottigliato e non hai abbastanza soldi per pagare? Contrai un debito. E nel momento in cui vai a chiedere un prestito, per esempio in banca, un mutuo o qualsiasi altra cosa, cosa succede? Viene stampato altro denaro. E quindi vado a inflazionare ulteriormente il denaro. Di conseguenza ciò che tu prendi in prestito si svaluta ancora più velocemente. E un gatto che si morde la coda è un ponzi vero e proprio dove tu prendi del denaro in prestito. Quel denaro che hai preso in prestito contemporaneamente svaluta tutto il resto perché va a aumentare la quantità di denaro circolante e di conseguenza va a svalutarlo. Quindi quello che hai preso in prestito di nuovo non ti basterà e contrarrai prestiti su prestiti su prestiti su prestiti su prestiti per cercare di campare. Oppure d'altra parte ti troverai soluzioni, lavori e cose varie per poter campare. C'è chi chiaramente si butta e fa prestiti, c'è chi invece dall'altra parte cerca altre soluzioni e cerca di lavorare. Ovviamente, cioè dipende poi dai casi. Però è molto molto importante comprendere queste dinamiche. Perché è così che ti tengono schiavo. Ecco perché dico che l'inflazione è importante per loro. Perché è tramite l'inflazione che loro ti tengono ancorati al loro sistema. E ti ladrano, ti rubano costantemente obbligandoti a contrarre debiti per poter campare. D'altra parte, aumentare la quantità di denaro abbiamo detto va anche ad aumentare i prezzi delle cose. Quindi aumentano i soldi, aumentano i prezzi. Ma se io quando vado a consumare un prodotto, per esempio, compro per esempio un televisore a 100 euro, qui pago l'iva del 20%. Quindi sto pagando 20 euro di iva, di tasse, allo Stato. Ora, se io aumento la quantità di denaro in circolazione e questo televisore mi sale il prezzo, cioè io lo compro a... non è un qualcosa di breve termine, è un qualcosa di lungo termine. Devi guardarlo con orizzonti temporali lunghi perché nel breve termine non te ne rendi conto del rincaro dei prezzi. O meglio, te ne rendi conto in determinate circostanze. Ma alla lunga non te ne rendi conto perché tendi a dimenticare ciò che è stato. Però tu guarda da 10 anni in 10 anni come cambiano le cose. Ipotizza che qua sono 150 euro o meglio, rendiamolo più semplice a livello calcolo. Facciamo che è salito a 200 euro perché sono passati 20 anni, è salito a 200 euro, lì va al 20% di 200 euro. Quant'è? Tu stai pagando più tasse in termini percentuali. È vero che i soldi che prendono valgono meno, ma intanto ti stanno tirando via dalle tasche più soldi. Perché? Perché come abbiamo detto tu continui a guadagnare uguale. Il tuo stipendio non sale. Io con questo gioco ti porto fuori più soldi dalle tasche. È vero che 40 euro valgono quanto i 20 euro di ieri. Però è anche vero che in termini quantitativi se tu prendi 1000 euro ieri e prendi 1000 euro oggi o qua ti toglievo 20 euro o qua te ne tolgo 40. Quindi sì, il valore è minore ma in termini quantitativi io ti sto portando via più soldi. E quindi che cosa farai? Alimenterai il debito. Questo è il gioco. Compreso questo, compreso come funziona, comprendiamo che è fondamentale fare che cosa? Investire. Investire è fondamentale. È una cosa estremamente importante da fare. Dobbiamo comprendere che non ha senso tenere soldi in tasca che non vuol dire che devi investire tutto all in. No, devi avere una parte liquidità perché il denaro in certi casi è utile per comprare asset a prezzo migliore. Ma tendenzialmente nel lungo termine è molto più importante tenere e ricevere asset piuttosto che il denaro. e ci sono un sacco di asset che si possono utilizzare più che altro per mantenere il potere di acquisto. Questo è mantenere il potere d'acquisto perché sono pochissimi in realtà se si va a guardare l'inflazione reale magari farò, anzi fammi sapere qua sotto nei commenti se ti interessa un video dedicato andremo a identificare quali asset realmente ti fanno battere l'inflazione statisticamente calcolando gli ultimi dieci anni perché sono giusto una manciata sono pochissimi un paio, due, tre non sono tanti di più. Quindi anche qui dovremmo andare a colpire poi un argomento molto delicato perché tanti investono in migliaia di cose che tendenzialmente sì ti proteggono il potere d'acquisto ma realmente non ti fanno fare soldi cioè eviti semplicemente che ti si svaluti totalmente il denaro però questo ripeto è un discorso che faremo a parte in particolare anche in questo caso voglio farti notare una cosa che investire non è tecnicamente tax free quindi io devo pagare magari un 26% in Italia un 22, 23, 30 dipende poi dove si va quindi anche su questo vado a pagare e tendenzialmente questa tassa è quello che va proprio a incidere andandoti a riportare sul carro quindi è vero non perdi tantissimo potere d'acquisto ma comunque perdi potere d'acquisto grazie a questo giochino qua però ripeto lo vediamo in un video dedicato e giusto per capire l'inflazione in gioco cioè come possiamo trarre beneficio da questa cosa qui andiamo a scomodare un grafico io prendo per esempio questo grafico qui perché è lampante quella che tu vedi qua l'M2 Global Liquidity Index è la liquidità che aumenta sul mercato quindi di fatto lo stampaggio di denaro porta sulla liquidità quindi più denaro sul mercato e come vedi i prezzi seguono l'andamento questo qui è il grafico di Bitcoin perché è più lampante non è più lampante questo ma vorrei farti vedere il grafico in scala logaritmica perché il grafico in scala logaritmica è un grafico che va a colpire solo l'incremento o il decremento percentuale quindi non ci fa vedere il prezzo in termini numerici quindi 50.000 20.000 e così via ma in termini di crescita percentuale e ti dico già che è assurdo compararlo alla liquidità perché è quello esattamente che ci siamo detti ecco qua la crescita della liquidità effettivamente come abbiamo detto va ad aumentare il controvalore percepito delle cose e questo incremento dei prezzi lo vediamo in praticamente ogni asset che abbia un senso che abbia effettivamente un valore in questo caso bitcoin ha un suo valore però non è questa la sede in cui parlare ne ho già parlato in diversi altri video vatteli a guardare te li lascio linkati qua sotto però quello che vediamo è come la liquidità cresca e con essa il controvalore perché perché aumentare la liquidità diminuisce il valore del denaro diminuire il valore del denaro aumenta in questo caso quello di bitcoin come controvalore cioè servono più soldi man mano che si va avanti per comprare le stesse unità di bitcoin e questo vale ripeto per un sacco un sacco di altre cose più il denaro si svaluta più diventa importante avere delle riserve in altri asset diventa importante utilizzare altri asset in modo astuto furbo proprio perché se noi sappiamo che il denaro si svaluta se noi riusciamo a comprendere i cicli cioè quando viene spinta liquidità sul mercato allora riusciamo a comprendere come e quando posizionarci per ottenere profitti questo è molto molto importante i ricchi i banchieri i governi giocano sulla distribuzione e l'inflazione del denaro con l'obiettivo di tenerti povero di tenerti il più schiavo possibile tu devi lavorare e campare con il necessario non devi vivere devi sopravvivere in modo che tu sia obbligato a continuare a produrre e lavorare fine questo è e produci per spendere sei una merce per loro sei un numero sei una merce sei un consumatore di ciò che ti danno loro non sei una persona e allora devi comprendere come funzionano queste dinamiche devi comprendere che ogni volta che si inflazione il denaro ogni volta che viene stampato i prezzi delle cose salgono la bolla si gonfia esplode e viene trasferita ricchezza a chi di nuovo torna loro loro distribuiscono denaro e quando vogliono esplode e riprendono con gli interessi e pescano dalle tasche di ognuno di noi solo imparando come funzionano i cicli dell'inflazione riusciamo a giocare d'astuzia e posizionarci in modo appunto astuto andando ad investire ed accumulare asset piuttosto che pezzi di carta senza valore condividi questo video mi raccomando devono vederlo più persone possibile ti ringrazio per essere stato qui con me se ti fa piacere iscriviti al canale per supportarmi e ci vediamo nel prossimo video grazie a tutti Grazie a tutti